ciao a tutti e bentornati sul mio canale sono breverkin magic e oggi in questo video vedremo un effetto di cartomagia non sono un amante della magia con le carte ma è anche giusto ogni tanto portarlo perché alla gente piace come potete vedere c'è una sedia vuota quindi mi servirà lo spettatore e l'effetto magico che vedremo è abracadabra abracadabra di dani da ortiz e quindi non ci resta che chiamare il nostro spettatore quindi abracadabra la parola magica più famosa del mondo funziona sempre ed ecco qua angelica ciao a tutti noi cambiamo la visuale e ci vediamo per l'effetto magico mazzo di carte bicycle rosso e vado a prelevare della scatoletta e ti mostro che sono tutte d'orso rosso e ovviamente sono tutte diverse adesso vado a mischiare così e ti chiedo scegli una carta quella che vuoi tipo questa questa qua no davvero quella che vuoi anche dal fondo tranquillamente proprio quello va bene allora io mi giro falla vedere appoggia la sopra vado a tagliare io e taglia tranquillamente anche tu perfetto ora prima di continuare con l'effetto vi faccio vedere e ti faccio vedere angelica che sono tutte di dorso c'è una carta girata sarà girata prima di mischiarla non c'è problema andiamo avanti e qual è la parola magica dobbiamo usare in questo effetto magico abracadabra quindi andiamo a contare abracadabra abracadabra è la carta scelta abracadabra di dani da orti quindi ragazzi questo era l'effetto riprendo la scatolina metto via le carte la chiudo e qui ho una scatoletta vado a inserire il mazzo di carte schiocco le dita e abracadabra il mazzo è scomparso come sempre il video sta giungendo al termine spero che questo effetto abracadabra vi sia piaciuto è tratto dal libro magia semiautomatica di dani da ortiz se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale commentate lasciate un mi piace e adesso lo spettatore non ci serve più lo facciamo sparire con abracadabra ma volevi farmi sparire e invece sei sparito tu e niente ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi